Alcuni cittadini della piana che da Venafro porta a Sesto Campano ci hanno ripetutamente segnalato un disagio che ogni notte sono costretti a vivere. Noi abbiamo provato ad indagare, ma sono ancora tanti gli interrogativi da svelare. Sembrerebbe infatti che in tarda notte un cattivo odore insista su tutto il territorio, provocando nausee e saturando l'aria, al punto da renderla irrespirabile. Sulla zona insiste lo stabilimento della Colacem, salita alla ribalta della cronaca, all'indomani dell'operazione nominata Remmida, datata a novembre 2003, quando cioè il Noe di Caserta arrestò il proprietario di un'azienda che trasportava rifiuti tossici. Le forze dell'ordine entrarono in azione proprio nei pressi della Colacem, un atto che non chiarì definitivamente a chi questi rifiuti erano destinati. Da anni nella zona ci si interroga se delle aziende smaltiscano rifiuti di origine pericolosa, un sospetto mai chiarito e che non lascia nessun dubbio sulla correttezza degli inceneritori presenti nella zona. Ma quell'operazione ha comunque destato una sorta di allarmismo nella locale popolazione, che si è riacceso, e non poco, con i disagi di queste ultime settimane. Disaggi che si possono toccare con mano, anche dando uno sguardo alla vegetazione che insiste nella zona. Uno strano fenomeno, infatti, ha alterato la colorazione dei grappoli d'uva, che in questo periodo dovrebbero essere verdi, ed invece hanno assunto una pigmentazione giallognolo-arancione, interessando la zona che arriva fino a Capriati al Volturno. Qualcuno ha assicurato che ben presto interpellerà l'ARPAM affinché verifichi che in tutte le aziende della zona siano rispettati i vincoli ambientali previsti dalla normativa vigente. Le tematiche ambientali, si sa, sono sempre al centro di un importante dibattito. La salute e la tutela del territorio sono valori insiti nella popolazione locale. Quest'ultima, però, invita le autorità preposte a non abbassare la guardia, affinché questo territorio resti lontano da infiltrazioni di dubbia provenienza.